La domanda del pubblico è una domanda che ci fa bene, diciamo che è una domanda che è molto importante, se è stato sassato, la dottoressa Amato, il collegamento che c'è tra la mutazione di un'autorocicità, che io non è in una situazione, e la proposta di abolire la crisi, se esiste un problema, la proposta di un'autorocicità. Grazie. 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 Grazie.